musica 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 il punto di vista è fuori davanti 2 di una macchina ora ce n'è uno e ora neanche quello tutti contro di noi non ci credo oggi che troppo forte quindi tutti i feriti su tutti i last camp però le streak a portata posta 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 come no c'è uno sopra scale sopra scale sopra scale stai attento io che sono me stanno sparando ma ne vado ciao che sta sparando cosa no perda ciao ciao ne ho 100 punti più meglio fatti scusa no ma shottato io e cantati è un parolone in questo momento tiro il talo non vedo una figa di niente non ci sono qua vicino a me mi sa allora lol ragazzi ha tirato il warbird nooo del warbird al cielo non ci credo oh che schifo ma come l'ha preso ah 15-5 stafano no ma il warbird l'ha preso nel car package mamma mia ma che culo bastardo cane vabbè sciallo devo capire dove sono adesso però è finito il volo il coso non lo so è basta sapere quello almeno quando è la certa io esco da sta casetta bellissima mi ha ferito uno questo mi è scappato via qua come non so perché dai da qua di là e vai a morire ma però eh una certa guav no mi hanno come si chiama col vision pulse mi hanno che cazzo stava facendo quello faceva il soldato vero lui è addestratto faceva il soldato vero lui è addestratto nooo ma affascuno via 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 da qua dai io la voi sono morto perché che cazzo che cazzo nooo le granate no 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 da dietro raga che pace come non detto executioner lì come cazzo è che cazzo è sotto oh basta basta si spawn di merda però che fatica quello è interna prendersi i punti e va via bravo eh dai ma donna vorrei studiare in merda bravo 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 uno arriva da sopra no no mamma mia bro sta cosa tu stava a farlo splash muori non muore tipo one shot dentro la finestra mi esci da lì sotto no da dietro raga ho fatto il giro da dietro occhio no 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 non muoiono non muoiono no 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 Sto perdendo pure io, oddio mi s... perché mi sfa pure la joystick? Oddio erano tutti e due di lì Sì, io vado a fare le missioni in acqua, vado a fare il navi seo Ops 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 Mi ha fatto un devasto, mi ha fatto piazza pulitem Tre davanti, tre davanti Uno preso Due preso Guarda la cassa, la cassa, la cassa Vabbè aspetta che mi prendo un attimo tempo No No, che cazzo sei, ti l'ha ascoltato? Allora Così Dietro Dietro tutti quanti Se me lo muoiono, regà Ok Non mi può prendere così, però regà dai ma... Oh... Dai dalla finestra Come uno solo? Ci erano mille Siamo entrati mentre lo stavo tirando No No Mmm, barco due Suonato di dietro Suonato da noi Oh, what the fuck Assist Facendo solo assist Cioè, Mahmood qua sta laggando come... va! Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Chi si riegetta? Ah, tua sorella No Eh, che cazzo stava riegettando Sta gente con il cecchino e il mirino aperto Cecchino e il mirino aperto Sì Eh, sanno anche il codice fiscale di casa mia Dopo che mi hanno cercato due stun Mi hanno cercato E mi è arrivato anche il vision pulse addosso Oh mio dio Oh mio dio Ma sai No, ma quante forze sta stretta? Allora... Oh, lei Che bello Sì Oh 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 Però con l'elicottero sta facendo una strada No Ho notato Cioè che mi ha sparato da dietro What the fuck? Va, vai, la Qua c'ho i raps Qua c'ho i raps Ueh Te romo Mi ha dato un tempo qua c'ho Fa palle che esplodono Dovrei usarlo il Tempest ogni tanto Ah no, oddio cosa c'ho Non c'ho il Tempest Cazzo Cazzo Ma quanta sto sparando a buffo nel muro Che cazzo Che cazzo Cazzo Sto tirando roba su roba raga Incredibile Se quello esce dalla hill Mi fa solo un piacere Raga vanno shite Che roba Un tipo disagiante Ho finito Ho finito la pasta Secondo te che vanno a prendere Giorgio? Tra meta che siamo un di fianco all'altro Il bello è che ti ha sparato a te ma Che mi ha fregato Ma io sono morto Mi vogliono più Mi vogliono più Tutti la prossima hillter non danno Io pensavo di avere il Tempest Non è che me ne aveva fatto Non è una riveglione Vaffa è stata pulita qua Dai la palla Nienda Dai Ma perché fanno i punti raga? Ma su questi qua in squadra con noi che fanno La partita dura almeno di 5 minuti ogni volta Oddio 5 no Però